Siamo nel palco di Yoyogi e adesso andiamo a dire i cosplayer, praticamente la gente che si traveste e si trucca nei fini settimane, perché le altre giorni lavorano. Adesso vediamo se li troviamo. Qui c'è un po' di gente, oggi è domenica e stasera è capodanno, cioè stanotte capodanno. Devo dire altre cose. Perché è una carrellata? Famiglia. Ok. Cos'è sta roba? Delle buone uffici parlando nuove. Grazie. 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 andiamo a pregare a voi dei soldi invece la gente li getta ma con il vento quelli scappano 10.000? 8.000 5.000 o 5.000 45.000 si vede che qualcuno può fare il burlo non spresso niente però niente aspetta che lo rifaccio vai non sei abbastanza convincente è una roba seria quella ci ha buttato una segna addirittura dentro la cosa ma può essere sono mappi si buttami i soldi con una frequenza tipo con tala di breve fico perché c'è silenzio si sente soltanto i soldi è impressionante la città la città non è un po' ma la città è un po' è un po' l'abbiamo Grazie a tutti. 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 On bass, Daniel. Grazie a tutti. 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 Andiamo? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Attenzione. Cattivissimo. Grazie a tutti. 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 Cosa stai giocando? Sono nella realtà virtuale. Sto giocando al Black 2. Cosa stai giocando? Cosa stai giocando? Cosa stai giocando? Non, non. Non c'è giocando? Non c'è giocando il riso. Ok, dove siamo, Giacomo? Siamo, dove lascio giù? Stiamo spettando la notte Ma sentimi Devo non cercare da nessuna parte Cosa? Dove vado quella teoria? Adesso noi mangiamo questa arba qua La buttiamo qua Questa? C'è della verdura No, quella fa schifo Ci sono i garbicelli che li mettono qui Metti la dentro, il tofu non lo mettere Il tofu non fa di niente Quello io lo mangio io Dicido Vuoi un po' di fuggi Ma io cazzerei dentro un po' di tutto Eh no, mi ricordo Diciamo che questo? No Vediamo un po' le regole di questo posto Devi fare, prendere la carne e fai Shabu Chiarissimo E fallo? Shabu Passoio Questo è il prosciutto cotto Ah, veda Con un po' di questa carne Veda, coca Ci vediamo dopo Cosa c'è lì sotto? Cosa c'è lì sotto? Duecento ieri Duecento ieri Duecento ieri Siamo al Tempio Medici. Questa è la gente. Prendi dietro, girati e cammina tutti. Come siamo? Ciao. Siamo al Tempio Meishi. E siamo in mezzo a tipo 100.000 giapponesi e di più. Stiamo aspettando per... Guarda, guarda il video là. Stiamo aspettando per andare a buttare le mulettine nel puzzo là. Come devo andare a fare da questi cuori? Solo per quello, perché se no... E faremo la mezzanotte qui, in mezzo a tutta questa gente. Senza il barca a giro, per favore. Se non si può. E' un po' a vedere. 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 Ci sono anche degli stranieri, hai visto? Ho visto sì. Sai che sta roba non si può spegnere. Vedi che hai imparato con la luce? Ma in stampare? Fala alla gente, fala alla gente, dai, dai! Stanno cantando qualcosa No Si vede? Ma non lo so L'importante è che non si vede quanto è brutto il turno lo ha Mancano 4 minuti in circa Grazie a tutti Ma si fa il cuore a occhio? Manca poco, manca poco, ma ci schermo, poi non vale, vale quello in Italia per noi, no, no, questo è eccitato? Sono eccitato, che schifo, vabbè perché è Capodanno, non pensare male, no, no, mi dai un bacio per stare a te, no, no, però Nicola me l'ha dato l'anno scorso, Nicola non sei, io a professore Nicola ti do un bacio, Stai registrando? Dai, cancella! Andata, ormai... Guarda, 8, 7, 6, 5, 5, 6, guarda, 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 è mezzanotte, è mezzanotte, guarda, Lo dice lui quando è mezzanone. Ah no, manca un minuto, ho sbagliato l'esera. Pirla! Saluta! Che dici? Ecco, devi mettere la mano davanti, eh? Guarda la figa! Guarda il tamburo! Andiamo a giocare. È il gioco del videogame! Il gioco del videogame! Oh yeah! Hey, hey, questa volta ci siamo, no? Guarda, 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 guarda! Lo dice lui! Guarda, guarda, guarda! Guarda, guarda, guarda! Guarda, guarda, guarda! Guarda! Eeeeeee! Grazie a tutti. 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 No, no, no. E' uno sballo il Capodanno in Giappone. Al tempo Reiji, poi è una figata. Al tempo Reiji, poi è una figata. Veramente stai. C'è, che cosa ne dici nel Capodanno in Giappone? Tanto me la ne prendi duemila. Se caschi, stai riprendendo? Abbiamo fatto ben tre ore di fila, abbiamo fatto ben tre ore di fila, passata la mezzanotte in mezzo agli inespressività per... Beh no, solo tre ore di fila, un'ora diciamo. Eccolo, eccolo! Adesso c'è la gente che fa la fila per andare via. Vedete che già... Vedete che già... Facciamo i soldi! Ma io voglio vedere quanti ce n'è là dentro... Anche io voglio vedere... Eccolo, eccolo, eccolo. Eccolo, eccolo... Eccolo, 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 eccolo. C'è quello che mi piace... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.